Uomini e donne, lite furiosa tra due ex cavalieri, armando in lacrime. Grande tensione durante l'ultima registrazione del programma. Protagonista Mario Cusitore che si trova al centro di una discussione accesa con l'altro campano del parterove. Si avvicina il momento del debutto stagionale di Uomini e donne, previsto per lunedì 23 settembre e nel frattempo continuano le registrazioni delle puntate. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, la terza registrazione è stata caratterizzata da un acceso scontro tra i due campani del trono over. La new entry Mario Cusitore e il senior Armando Incarnato. Il diverbio sarebbe nato dopo alcune esternazioni dell'ex corteggiatore di Ida Platano che, iniziata la conoscenza con due dame si sarebbe lamentato del fatto che tutte arrivano lì con buoni propositi e poi lo criticano duramente. Parole che hanno provocato le ire di Armando Incarnato che si è schierato in difesa della dame accusando Cusitore di essere lì solo perché alla ricerca di visibilità. Momento caldo è stato quando Armando ha punzecchiato Mario sul famoso tatuaggio che si era fatto per Ida. Sarebbero dunque volate parole grosse tra i due ma ad un certo punto Armando sarebbe scoppiato a piangere. Non tanto per il diverbio in corso ma per motivi personali, legati alla figlia. Durante la lite sarebbe intervenuta anche Maria De Filippi dicendo ad Armando che non è lì per attaccare sempre Mario ma per trovare l'amore. Ma restando su Mario, è tornata in studio Maura Vitali, ex dama che nella passata stagione sembrava aver trovato l'amore con Gianluca Rocchetti. Storia naufragata qualche mese più tardi. La pugliese sarebbe scesa proprio per conoscere Cusitore e lui avrebbe deciso di tenerla. Per quanto riguarda il trono classico, fare i puntati su Francesca Sorrentino che ha conosciuto meglio quattro dei suoi corteggiatori. La tronista avrebbe letto una lettera per chiarire i motivi che nel corso della scorsa registrazione l'hanno portata ad avere un crollo emotivo. Infine, spazio ad Andrea Dal Corso e Teresa Langella. La coppia nata dopo l'esperienza a uomini e donne è convolata a nozze e ha voluto condividere con Maria la magia del loro grande giorno.